Anche quest'anno siamo presenti al SAIE con importanti novità. Il SAIE per noi è un'occasione, un incontro fisso oramai da diversi decenni perché riteniamo sia la più importante fiera del settore. Quest'anno presentiamo molte novità in ambito BIM e in particolare abbiamo presentato in anteprima assoluta il nostro nuovo software di progettazione architettonica BIM completamente cloud, che è il primo software al mondo ad essere completamente cloud con la possibilità di collaborare anche a distanza a più persone su uno stesso progetto in tempo reale, direttamente tramite browser quindi senza l'utilizzo di strumenti installati in locale sulla propria macchina ma dando comunque anche la possibilità di lavorare offline. Questa è un'importante novità che stiamo presentando proprio qui in occasione del SAIE e poi tante altre novità in materia di CAM piuttosto che i ponteggi. Abbiamo presentato anche in anteprima qui al SAIE il nuovo software per la progettazione dei ponteggi, quindi calcolo strutturale dei ponteggi e redazione della PIMUS. Poi chiaramente anche tutta la parte sicurezza, importanti novità con la patente appunti accrediti in merito appunto alla sicurezza dei cantieri, quindi tante novità aspettiamo i nostri clienti e potenziali clienti per mostrargliele. I nostri software consentono a chi li utilizza di chiaramente progettare in maniera sempre più sostenibile perché chiaramente il mondo sta andando in quella direzione e quindi progettare BIM significa anche quello c'è ottimizzare e creare edifici sempre più sostenibili e quindi sì assolutamente siamo in quella direzione.